Ben trovati ad un nuovo video tutorial firmato fabioambrosi.it il tutorial di quest'oggi è molto banale e scontato quindi me ne scuso fin da subito però per completezza è bene parlare anche di questo argomento ovvero come aprire un progetto già creato in Adobe Premiere che ci vorrà mai diranno molti e beh in effetti si è molto semplice però chiaramente per completezza affrontiamo rapidamente anche questo argomento innanzitutto c'è da dire che appena avviate Premiere vi trovate di fronte a questa interfaccia molti di voi sicuramente l'avranno già vista ed è l'interfaccia chiaramente di benvenuto al centro abbiamo l'elenco degli ultimi progetti aperti in Premiere con qualche informazione tipo la data dell'ultima apertura il peso e la tipologia di progetto cliccando su uno di questi progetti chiaramente è possibile aprirlo eccoci qua quindi il modo più veloce per aprire un progetto caricato di recente è direttamente dall'interfaccia di benvenuto fantastico chiudiamo chiaramente il progetto se non avete fatto nessuna modifica nulla vi viene chiesto e vediamo un altro modo per aprire i progetti in Premiere chiaramente potete cliccare sopra il tasto apri progetto la differenza è che in questo caso dovete navigare nel vostro computer scegliere il file di progetto che volete aprire fare doppio clic oppure cliccare sopra ad apri e il risultato praticamente è lo stesso qui vale la raccomandazione che ho fatto nello scorso tutorial cercate di organizzare bene il vostro materiale dividete i vostri progetti in cartelle ben organizzate e solo in questo modo potrete ritrovare quello che state cercando in pochissimo tempo fantastico altro modo per aprire un progetto in Adobe Premiere chiaramente è andare sul menu file poi cliccare sulla voce apri progetto tasto di scelta rapida CTRL O probabilmente ovviamente il modo più veloce CTRL O vi viene presentato il browser in cui andare ad individuare il file sul vostro computer una modalità simile a quella che abbiamo già visto individuate nel vostro hard disk la cartella contenente il vostro progetto individuate il vostro progetto fate doppio clic sopra il file oppure cliccate sopra ad apri ed il progetto bam viene aperto fate molta attenzione perché l'ho già detto nella scorsa lezione parlando di come salvare un progetto Premiere lo ripeto adesso nelle ultime versioni Premiere permette di aprire più progetti contemporaneamente in questo caso chiaramente vedete qui ho aperto due progetti è un metodo di lavoro che io sconsiglio perché così si fa molta confusione e se non siete super organizzati uno può cominciare a mischiare i progetti e a fare un po' di confusione quindi la mia raccomandazione chiaramente è aprire sempre un progetto alla volta nel caso però che abbiate bisogno di pescare un file importante una grafica appartenente ad un altro progetto probabilmente aprire un progetto dentro un altro progetto può essere una soluzione percorribile e basta queste sono le modalità per aprire i progetti in Adobe Premiere ovviamente scendendo e scorrendo il menu file trovate anche altre voci tipo apri progetti team che non vedremo in questo corso perché chiaramente per avere accesso a queste funzioni bisogna aver acquistato Premiere con le funzioni team abilitate se lavorate in una grande azienda probabilmente è il modo migliore per lavorare insieme ad altre persone ad un progetto e chiaramente non abbiamo visto l'ultima voce che è apri recenti il menu che vi presenta gli ultimi progetti aperti molto simile alla modalità di aprire un progetto visto nell'interfaccia di benvenuto per chiudere un progetto basta chiaramente cliccare su chiudi attenzione perché la differenza tra chiudi e chiudi tutti è che chiudi chiude il progetto che è selezionato in quel momento nel pannello progetti mentre chiaramente la voce chiudi tutti vi permette di chiudere in un colpo solo tutti i progetti aperti in quel momento bene basta così nella prossima lezione parleremo delle cose più fighe che è possibile fare in Premiere quindi parleremo di transizioni dissolvenze effetti video vari tipi di effetti video parleremo del rendering parleremo dell'audio del mixer audio dei mixer audio parleremo chiaramente della grafica in Adobe Premiere dei titoli dei sottopancia parleremo dell'export il momento più importante probabilmente quando si finisce di lavorare un video quindi non perdetevi le prossime le prossime lezioni i prossimi video tutorial iscrivetevi al mio canale youtube e venite a trovarmi sul sito www.fabbiambrosi.it grazie per avermi seguito anche in questo brevissimo tutorial appuntamento al prossimo video ciao e grazie ciao